Buonasera, ben ritrovati, questa settimana parliamo di oceano, di vela oceanica, di vela solitaria e ne parliamo con intanto l'unica italiana di qualunque genere che abbia vinto di Ocean Race, diciamo individuale, perché ai tempi della Whitbread l'Italia vinse un trofeo per squadre con tre barche nella prima edizione, che ha da poco annunciato in parte i suoi programmi, ma soprattutto il legame con uno sponsor che la seguirà nei prossimi anni. Parliamo di Francesca Klapcic, velista triestina, trapiantata quando non è in mare a Park City, nell'Ujuta. Ciao Francesca, ben trovata. Ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao. Allora, dicevamo appunto, hai annunciato da pochi giorni la collaborazione con Eleven Hour, che è lo sponsor che ha sostenuto la barca con cui hai vinto The Ocean Race. Tra l'altro so che, diciamo, parlare di genere con te è sempre un po' complicato, però insomma hai giustamente una certa sensibilità. Però non c'è dubbio alcuno che sei una specie di pietra migliare nella vela italiana, perché direi che prima di te l'unica donna solitaria che mi viene in mente è Ida Castiglioni, ma parliamo della preistoria, non eri neanche nata, e hai adesso forse una erede che aspira insomma a seguire le tue orme che è Cecilia Zorzi. Nella vela olimpica, in shore in generale, donne ce ne sono tante, nella vela olimpica sei stata protagonista anche tu nel 49er con la Giulia Conti, abbiamo le nostre beviste dei Nacra, le ragazze dei Vicufoli, insomma, però nella vela oceanica in assoluto, in realtà non solo in Italia, le ragazze non sono tante. No, ed è un peccato, no? Ricordo l'arrivo a Genova dopo l'Ocean Race, un sacco di interviste, e la domanda principale era cosa si prova a essere la prima, no? Ma sicuramente si prova tanto orgoglio, ma allo stesso tempo non voglio essere l'ultima. E quindi per me è veramente importantissimo, prima di tutto, cercare di rappresentare un po' la categoria in queste regate importanti, e poi dimostrare comunque che le donne nello sport possono raggiungere livelli veramente altissimi e dimostrare e rappresentare anche, diciamo, una categoria per le nuove generazioni, no? Hai fatto l'esempio della Cecilia, io Cecilia la ricordo che usciva col suo laser 4.7 sul Garda e adesso ovviamente sta facendo grandi progetti, purtroppo magari non con gli stessi budget, non con lo stesso supporto che meriterebbe, no? E quindi ovviamente per me è un orgoglio, ma anche una responsabilità, cercare di dimostrare quello che può essere fatto. Ma sai, io credo che comunque ci voglia un po' di tempo, di pazienza e di ottimismo, perché se noi pensiamo che tanti anni fa, diciamo, l'unico velista navigatore oceanico che riuscì a mettere insieme un budget era Giovanni Soldini e i suoi eredi sono 4, 5, c'è Rosetti che ha vinto la Minitransat, insomma. Il movimento della vela oceanica italiana adesso è sicuramente uno dei più floridi, dei più attivi e, diciamo, l'ufficialità della tua sponsorizzazione lo conferma, anche se, diciamo, viene dagli Stati Uniti. No, sicuramente, ma l'esempio della vela oceanica in Italia, secondo me, innanzitutto è un momento un po' magico, no? Per una categoria di vela che magari non è famosissima in Italia. Tanti fan della vela si appassionano normalmente alla Coppa America per quel paio di settimane e magari seguono le Olimpiadi perché sono eventi ovviamente globali e la vela oceanica è sempre rimasta un po' in sordina. Poi, ovviamente, con i grandissimi esempi di cui hai appena parlato, e sai, quando c'è un italiano, degli italiani che vincono, vanno in Francia, battono i francesi e a casa loro, nelle regate dove normalmente sono i più esperti, ovviamente è un momento bellissimo per la vela italiana. e di donne ce ne sono ancora poche in quell'ambiente lì e sicuramente non è che non ce ne sono, va costruito probabilmente un percorso un po' diverso che porta magari più donne anche dalle classi olimpiche ad altri tipi di vela. Perché il percorso che ho fatto io, alla fine, è un percorso dove magari altre ragazze si ritrovano in questo momento, no? Sono nelle classi olimpiche, magari al massimo le loro attività, però magari dopo Parigi o dopo le Olimpiadi del 2028, sai, è un momento di cambiamento enorme una volta che cerchi di passare un altro tipo di attività. e spesso i ragazzi hanno un pochino più di facilità ad entrare in altri ambiti che non siano solo le classi olimpiche e le donne ancora fanno un pochino di fatica, ma non penso che non ci siano appassionate di mari, appassionate di vela, appassionate di oceano che non si imbarcherebbero in questo tipo di avventure. Quindi tu non pensi che, diciamo, in questo possa esserci cosa che in realtà nella vita quotidiana, se vediamo bene, non è che le ragazze sono, diciamo, meno coraggiose per affrontare l'oceano in solitaria, perché poi appunto, mentre magari in altra vela ci vuole una forza fisica importante, ci vuole anche nella navigazione oceanica, ma ci vuole più testa. Assolutamente, no? Sono d'accordo. Ed è il motivo per cui al Vende Globe non c'è una categoria femminile o maschile. Si parte insieme, si parte su barche che ovviamente non sono monotipo, quindi poi la barca fa anche la differenza, il progetto fa la differenza, ma a livello umano la differenza la fa sicuramente la testa, perché è uno sport difficile, ti ritrovi in mezzo all'oceano per più di 70 giorni in solitaria. Non è semplice. La testa può diventare il tuo più grande amico, il tuo più grande nemico in un attimo. Però, guarda, cerco sempre di fare l'esempio di mia moglie, che ha portato avanti una gravidanza, ha messo al mondo una bimba e quando il luogo comune delle donne che non sono forti, non sono coraggiose, non lo so, mi sembra di sfatarlo abbastanza. Ti chiamavo smentire luogo comune. Esatto. Anzi, spesso penso che sicuramente ci sono sensibilità diverse ed è il motivo per cui il mondo è bello, perché è vario, ovviamente c'è varietà di genere, c'è varietà di personalità, di nazionalità, di background, di quello che abbiamo fatto anche nella nostra carriera. Però poi, una volta che sei in mezzo all'oceano, lì conta la preparazione, conta la testa, conta ovviamente tutto il team che hai dietro, che sta lavorando per te, quindi secondo me è probabilmente uno dei posti più belli dove ci si può ritrovare in mezzo all'oceano, distanti da tutti e tutto e non c'è quasi differenza, l'oceano non guarda veramente al fatto che sei donna, uomo, sei giovane, vecchio. Ma no, anche perché magari se bisogna odurre dell'energia dei Jat su una barca della Coppa America ci vuole tanta forza fisica, ma comunque diciamo, soprattutto adesso che ci sono i ciclisti, abbiamo delle campanesse di ciclismo che potrebbero dire il fatto loro, ma quando tu appunto devi fare il giro del mondo in 70 giorni, se ci metti un'ora o tre ore a cambiare una vela, tendenzialmente non è un handicap enorme. No, e poi comunque la barca può essere adattata tanto, no? Il problema, il grande problema della Coppa America è che il mezzo ovviamente richiede tantissima potenza, richiede un continuo, una continua produzione di energia e quindi ovviamente se devi decidere tra magari un ciclista di 80-90 kg che gira in velodromo rispetto magari a, che ne so, la Elisa Longoborgini, probabilmente decidi su quello che ti riesce a pompare più olio. Però il grande, secondo me, vantaggio della vela oceanica è che innanzitutto il progetto della barca può essere adattato, viene adattato allo skipper, quindi viene quasi fatto il percorso. E ovviamente viene adattato in tutto, da quanto grande è il pozzetto, no? Per degli skipper un po' più bassi, un po' più alti, a quanti passaggi hai per i foil o i tipi di winch. E quindi ovviamente a quel punto la differenza tra fisici diversi viene minimizzata il più possibile. Certo. Stiamo parlando del Vendeglobe perché comunque, diciamo, il progetto di cui si è appunto annunciata questa sponsorizzazione per il Nereven Hour prevede il Vendeglobe del 2028. Questo vuol dire che questo contratto dura quattro anni già. No, per il momento è un progetto di due anni con, diciamo, un asterisco per, incrociando le dita, essere, diciamo, esteso ad altri due. L'obiettivo è quello di, ovviamente, iniziare la preparazione nelle prossime due stagioni. Stiamo costruendo un attimo il programma agonistico e poi l'obiettivo, ovviamente, è quello di avere un'IMOCA nel 2026 per preparare il Vendeglobe. Ovviamente col Vendeglobe del 2024 che parte quest'anno e barche disponibili non ce ne sono, quindi ovviamente il progetto viene costruito un po' a blocchetti. Sì, quindi le prime due stagioni per me personalmente e anche per avere più esperienza sia come skipper che come velista in generale e poi ovviamente anche per avere il tempo necessario per prendere le decisioni su eventuali barche, su tutto il progetto che ovviamente poi diventa molto impegnativo una volta che si avvicina al Vendeglobe. L'obiettivo è quello, il sogno è anche quello, il motivo per cui ovviamente la partnership con 11 Hour Racing è nata perché comunque condividiamo sia l'obiettivo che è bellico, ma anche l'obiettivo che sta dietro alla parte puramente sportiva. Certo, ricordiamo appunto un po' qual è il core business di 11 Hour. Ma è un'organizzazione americana che nel loro proprio core ha la sostenibilità ambientale e con il mio progetto vogliono ampliare diciamo la parte di sostenibilità e non solamente solamente virgolettato perché è ancora ovviamente qualcosa su cui lavorare tantissimo, ma non solamente sulla parte climatica ma anche sulla connessione tra persone, clima e l'impatto che alla fine noi come comunità abbiamo sull'ambiente. Ed è la relazione, no, è abbastanza a doppia entrata perché spesso i problemi più grandi del clima sono anche quelli che vengono diciamo creati da delle comunità minoritarie, no, ma il problema è anche l'opposto. Il clima è un problema enorme per un sacco di comunità minoritarie. Quello che ho notato io negli ultimi anni è che spesso c'è questa enorme divisione, no, si parla o di oceano o di clima o di pianeta oppure si parla di persone, di minoranze, ma non c'è mai questa connessione tra le due che invece secondo me è importantissima perché siamo tutti connessi, no? oggi più che mai oggi più che mai e lo vedo a casa mia qua a Park City perché comunque vivendo in una città di montagna dove sai tutto l'ambiente è all'aperto si fanno un sacco di attività all'aperto quindi l'impatto che come comunità abbiamo sull'ambiente è enorme e allo stesso modo lo vedo nell'oceano. Vabbè se tu pensi che settimana scorsa ha nevicato qui a New York io sono a New York non nevicava non una grandissima nevicata però la città era tutta bianca non nevicava da 700 giorni esatto e io a New York ho visto nevicate di 60 centimetri ecco sì sì esatto ma guarda anche noi qui è secco non è che abbiamo chissà quanta neve quest'anno l'anno scorso sicuramente meglio il problema è che poi tutto è connesso abbiamo poca neve d'inverno e a quel punto le risorse d'acqua d'estate sono minime e l'impatto sull'ambiente è enorme certo allora come hai detto tu in questo momento di Moca 60 disponibili non ce ne sono e quindi cosa che barca stai cercando il programma il programma il programma verrà verrà annunciato presto probabilmente nelle prossime tre dieci le due settimane dieci giorni due settimane annunceremo il programma sia il programma agonistico che il programma diciamo proprio di impatto sociale e ovviamente è un programma che non sto creando da sola perché da soli non si va mai troppo lontani e quindi è un team dietro che sta lavorando veramente giorno e notte per per creare qualcosa di importante e sarà ovviamente un progetto sempre legato a vela offshore vela oceanica e la piattaforma che useremo è ancora un attimo stand by da aspettare ancora qualche giorno perché ovviamente l'unica sicurezza che avevamo negli ultimi mesi è il fatto che ovviamente di moca pronti ad avere le chiavi in mano non ce ne sono e quindi sarebbe stato veramente per me a livello personale e professionale ovviamente non poter navigare per un lungo periodo di tempo non era proprio un'opzione e quindi abbiamo valutato un'altra opzione che annuncieremo presto dammi una percentuale sul fatto che tu possa essere alla partenza della transat ex all-star che parte dalla Francia e arriva in New York allora della sì sì della transat sì sì la vecchia ovviamente percentuale bassa ma probabilmente saremo la partenza di un'altra transat ok solitaria o in equipaggio c'è una transat nel programma per quest'anno solitaria o in equipaggio sarà in equipaggio ovviamente equipaggio ridotto e stiamo quella che torna indietro in pratica cosa quella che torna indietro sì probabilmente non so esattamente se torna indietro allo stesso tempo ma ma sicuramente dobbiamo andare in là ma poi torniamo indietro esatto ma collaborazione con qualche altro skipper oceanico italiano al momento no nel senso che il progetto è veramente legato tra Eleven Hour Racing e me come skipper quindi l'obiettivo anche dello sponsor è quello di cercare di elevare il più possibile la mia presenza come skipper a livello anche internazionale però ovviamente ci saranno degli eventi sia in equipaggio che in doppio che richiedono la presenza di altri velisti di un possibile co-skipper e quindi è tutto il lavoro che stiamo facendo adesso a livello di team per organizzare la stagione ed essere pronti a partire appena le regate iniziano certo tra l'altro la CEO di Eleven Hour ha vinto la barcolana esatto probabilmente è la cosa di cui è più orgogliosa l'essere triestina ti ha aiutato guarda sicuramente ho avuto la fortuna di passare del tempo con Wendy a Trieste quando è venuta per la barcolana e Wendy è venuta anche ad ottobre per la barcolana scorsa senza senza navigare ma a fare diciamo da madrina dell'evento e quindi abbiamo avuto di nuovo anche l'opportunità di passare del tempo insieme però sicuramente sia lei che tutto il team di Eleven Hour Racing ha valutato probabilmente che ero la persona giusta per il progetto che hanno in mente una relazione che è nata ovviamente dall'Ocean Race dove ho conosciuto Wendy ma ho conosciuto anche tutto il team di Eleven Hour Racing è un po' un progetto che è nato da lì lei ovviamente è appassionatissima di vela naviga parecchio nelle zone di Newport Rhode Island e poi ovviamente è appassionata di oceano appassionata di clima e adesso vuole espandere un po' il suo lavoro personale di filantropistico anche con la connessione proprio tra le comunità tra le persone e l'ambiente certo però diciamo tra tante persone che durante The Ocean Race hanno ruotato attorno al team velisti soprattutto comunque che abbiano scelto te tanto che è un orgoglio tuo e un po' anche nazionale alla fine sei residente negli Stati Uniti ma insomma resti un expat esatto ma è sicuramente un orgoglio enorme per me il fatto anche di riuscire a portare magari una visione un po' diversa come hai detto bene sono nata in Italia cresciuta in Italia ma ho girato il mondo ho visto vissuto anche in altri paesi ho vissuto adesso vivo negli Stati Uniti penso che oltre ovviamente le capacità tecniche in barca quello che risalti anche un po' la visione globale del mondo riuscire a portare magari un diverso punto di vista ovviamente essendo cresciuta in un in un paese europeo riuscire a portare diverse diverse culture diversi punti di vista penso che sia importantissimo per cercare anche di elevare un po' questa conversazione che cerchiamo di avere con il 11 Hour Racing ci sarà in qualunque regata che farai un messo legato alla ricerca o comunque questo verrà dedicato al progetto più importante del futuro ma è una è una bella domanda nel senso che ovviamente l'obiettivo è quello di mantenere comunque il lavoro che si sta facendo a livello climatico vuole rimanere quindi la classe di Mokka per esempio ha introdotto un sistema all'interno del software di navigazione per quanto riguarda balene e grandi animali nell'acqua e quindi quello per esempio è un progetto che vorremmo riuscire ad espandere a tante altre classi perché l'Imoka non è l'unica barca che naviga in oceano cioè ci sono gli ultim ci sono i class 40 gli ocean 50 e quindi cercare di espandere quel lavoro lì sarebbe importante e poi ovviamente avere l'opportunità di installare un sistema di ricerca di analisi in varie classi e anche quello potrebbe essere qualcosa che a livello diciamo tecnologico possiamo portare nelle diverse classi oceaniche Si è molto parlato in Italia nelle ultime settimane dell'annuncio della collaborazione tra Giovanni Soldini e la Ferrari per un progetto che per quanto diciamo le cose che si sanno sono più di passaparola che ufficiali sembra pazzesco No sicuramente e sinceramente il mio primo cos'è ho pensato ah magari una collaborazione per costruire un old team quella era un old team di nuova generazione però poi sembra che invece sia un monotipo ma innanzitutto la collaborazione tra uno dei navigatori più esperti e più famosi d'Italia insieme a un'azienda che non è solamente un'azienda importante in Italia è un'azienda mondiale e quindi di solito quando ci sono collaborazioni tra enti e persone di quel calibro insomma ne può uscire solo qualcosa di buono e poi comunque il progetto è di Verdié che è l'uomo che ha in pratica inventato la Coppa America sui foil e ricordiamo che la maggior parte delle persone quando hanno visto il primo rendering di quell'oggetto hanno pensato che non sarebbe mai stato realizzabile invece insomma la genialità produce cose incredibili assolutamente beh Verdié ha un sacco di progetti anche nella classe in mocca e sicuramente è un genio è un genio del design ha idee innovative quindi sì come ho detto prima quando quando metti queste idee innovative persone innovative insieme di solito ne nascono sempre dei progetti interessanti che probabilmente faranno un po' discutere e faranno anche magari innamorare dello sport ancora di più quindi è sempre importante secondo me per lo sport in generale l'evoluzione cercare di collaborare con aziende con organizzazioni che hanno magari una visione un po' più a lungo termine rispetto solamente a pensare a quello che succede oggi certo hai citato gli ultimi che sono appunto i trimarani di centopiedi stai seguendo un po' la regata che stai facendo sicuramente sto seguendo ovviamente dispiace per per SWR e Tom che hanno dovuto abbandonare la regata e purtroppo per qualcosa che troppo speso non è non è veramente colpa sua e ho visto Thomas anche deve fermarsi per riparare la barca non sono delle barche semplici e vanno gestite probabilmente molto molto bene però sono delle barche incredibili le performance sono assolutamente incredibili 33-34 nodi costanti fanno impressione fanno impressione niente in conclusione abbiamo ovviamente citato la Coppa America tu come è noto sei socia del New York Youth Club collaborerai cioè a un certo punto dovevi fare del coaching con Magic America ci sarà per l'equipaggio femminile continuerai la collaborazione hanno annunciato qualche mese fa o un mese fa e quindi sarò nel team come come velista e abbiamo già fatto qualche sessione al simulatore a Barcellona e nel programma di quest'anno ci sono altre sessioni al simulatore e poi finalmente appena la barca è disponibile speriamo di avere un po' di tempo per per navigare con i 40 perché ovviamente il simulatore è una cosa però una volta che puoi metti una barca in acqua è un po' diverso e quindi sarà un anno sarà un anno impegnativo quindi sarai a bordo del 40 siamo in 6 siamo in 6 quindi ovviamente c'è una rotazione però una rotazione a cui decideremo chi chi ha le migliori possibilità di far bene però al momento sì al momento sono potresti anche essere una delle timoniere cosa? potresti anche essere una delle timoniere sì sì abbiamo fatto delle sessioni al simulatore dove ho timonato per un po' di giorni e poi abbiamo cambiato i ruoli sono stata al trim è interessante la barca ovviamente è complessa ma non è impossibile non ha la stessa tecnologia di altre barche foiling tanti sistemi sono abbastanza automatizzati però ovviamente tra l'essere davanti a uno schermo in un simulatore poi essere in acqua con altre barche intorno sarà una storia un pochino diversa certo certo beh questo perché appunto da quello che sapevo pensavo che tu fossi più legata alla parte coaching no no il fatto che tu sarai a bordo anche se non in tutte le regate è un altro secondo me valore di quanto la vera italiana a livello internazionale sia cresciuta negli anni insomma io ho cominciato a occuparmi anche diciamo dal puntista giornalistico di questo sport negli anni 80 di strada ne abbiamo fatta veramente assolutamente un applauso anche a te grazie prego Francesca grazie mille è sempre un piacere chiacchierare con te assolutamente quando avremo più programmi ne riparliamo di nuovo grazie ciao a tutti ciao ciao